Grazie 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 dolce niente ti ringrazio ma fin troppo aspettate non partire è uno straccio il momento è arrivato così lei purtroppo non sospira va prendi con te cibi e per onde lui una data si parte parte un liste con coraggio e stavolta finalmente va veloce e lisso viaggio non gli accade proprio niente presso un po' il pastore sta e si finisce uno straniero in segreti taglierà chi lo ha con questa libertà alla regia però c'è un mare sono stessi più pazienti e in generale che fai? va di là i tre potenti su ora scegli chi ti fa e passa con queste trichette e continuano a fare queste casse in grado sotto le salle delle foglie giravisse a tutti i piedi più sottili di sorpresa guarda, ascolta, sente e vede il mare la regina ogni giorno si fa solo e va a guardare aspettando un granitore poi disse ecco l'aspetto di un piede tetta ma la regia di un cospetto si la guarda qua e là vede il figlio che è il segreto ma di progetto il cuore però resta zitto e presto perché è solo e ha finito si ragionano i croci alla regia di tutti i conti e poi l'asce nella regia di un cospetto vai, su, ora, scegli tu un amico tanto, Ulisse non c'ha più e per amare l'ai mio figlio io domani su altro conterò chi lo piega con le mani come sforzo conterò ma lo dice perché spera che nessuno fa sottare solo Ulisse non c'era tanto forte da arrivare si, dai, facciamo questo gioco lo piegherà anche poco, sarà più giusto il marito poi Oddio se ne va ad allenarsi tutto il giorno se quell'argo piegherà la regina a posto il bambino la notizia in qualche ore gira l'isola veloce anche Ulisse dal pastore ha sentito una testa il momento dell'azione è arrivato con un breve pensamento e il soffriato preparato prima si pulisce e spregna con le mani tazionanti e ci sento la mia vita bello, a novi e regati poi davanti al professore veloce da noi e io sono il tuo signore, Ulisse il pastore ha muto il tuo guarda bene uno straniero poi si lama e mi decolito tu se volessi per davvero va con l'isola e mi porta in me ancora credo tanto, pochi, non mi porta valla adesso a me al mio figlio valla voi sull'isola però parla con il sole venga finita da me in casa il pastore si inchina parte, corre, parla, va e nemmeno una mattina prenda uomini sull'acqua e te lema colpiglio poco dopo è arrivato c'è il momento di stompiglio c'è la braccia forse passa la rosata se viene l'alba e la t prepariamoci per voi al compito del vestito ecco qua nel gran salone della reggia tutto è pronto sono cento il professore non è facile è pronto i crocci stanno a mangiare e a vivere intanto con delle macostruzze non mi serve lì accanto dopo il pranzo è portato il gradiato da piegare solo lì se l'ha tornato e si stanno ad avviare lì accanto e poi dentro nelle croci impiegato inutimente poi in alto con feroci smolce e grida ha ancora niente poi il verso ora tu stiamo sentando ho una grande delusione ma un vecchio salzato che vorranno lo staccione e io signori sono insieme con i piedi posso stare però state la mia mano e vorrei anche provare ah che gran risata c'è vecchio pazzo cosa vuoi? tu vuoi fare quello che non riusciamo a fare noi? alla fine fa lo segno provi pure nel rifatto che vergogna con il bello è una nobile pesante la guarda la misura la carezza lentamente e barbone ne hai paura? grida quella brutta gente ad un tratto pieno con facilità e ogni croccio e strepatto con la bocca avrebbe arrestato e unissimo che scagna una delle frecce che insieme alle armi nella maglia lo sentivo dietro a sé cade un croccio trapassato poi un altro un altro ancora che terrore è arrivato nella nobile di mora alle armi dove sono? fuori le tre sono arrivili le striglie nella reggia del buon re fuori il tanto i pastori hanno lì e la marmaia di perprocci maltrattori via per lì sulla scuola e la reggia la cerfaccia e la dolce sposa me sono di pronta oriste tace lo guarda e poi poi si prendono per mano insieme ai pandanuti nel giardino e si mettono seduti stanno là in contatto prima l'ora c'è una altra la città Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, 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 sì.